Allora, Franz, a incontrare questa donna meravigliosa, vai! Vai, questa è una prova che stiamo facendo per far vedere la copertina, ti facciamo vedere la copertina di questo esemplare e presentiamo il figlio di Franz, Franz Falanga, il suo figlio, il suo primo genito, Franz primo genito, secondo genito, lo ama più del primo? È sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Allora abbiamo tanto da vedere lì. Avremo tanto da vedere lì. Franz, puoi dire qualcosa? Che possiamo fare con che la gente capisca un po' il tuo secondo genito? Eccola, bella domanda. Cosa direi? Come facciamo a rispondere a questa domanda? Cosa direbbe è che vogliamo conoscere questo secondo genito? Vogliamo sapere qual è la sua origine? Perché sai, l'origine è molto importante, no, Franz? E è di questo che parliamo, no? Sì, sì. Allora, secondo genito? Va bene, è va, ok, ok. Stai qui? Ma tu guardi, quello... C'è sempre uno. Che caspire. Bene, bene. Voglio far vedere... Ma sì, possiamo dire la parola. Le cose meravigliose che possono fare gli ingegneri e gli architetti e le cazzate che possono fare sia gli ingegneri che gli architetti. Complimenti. Allora possiamo... Fermiamoci qua, fermiamoci.